è arrivato uno con la moto è andato dove volevi a terra ma guarda che bello questo qua ma guarda che bello vieni vieni c'è tutto l'asilo nido qua e sono torelli vieni 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 che passiamo un po di strutto che è quello che ti serve per le mosche e poi ho un po di rosmarino sotto le ascelle lascia stare la mia macchina e te c'è un po d'aria questa è una pezzata vedi rappezzata dai vieni qua che ti faccio un primo piano e questo è un pezzettino guarda il toro dai stai lì che facciamo paperissima ti stai dicendo vieni che e finisci la è questo il toro dai vieni la parte del cuore paesaggio a greste con contadino in maglia rossa che fa le foto al toro e e Grazie a tutti.